Passo il telefono a un bianco nero che ha vinto l'europeo Passo il telefono a un altro bianco nero che ha vinto l'europeo Passo il telefono a un altro bianco nero che ha vinto l'europeo Passo il telefono a un nuovo bianco nero che ha vinto l'europeo Qua si aprono questo corridoio dove ci sono alcune camere Le altre camere sono queste qua Io sono al numero 104